Presentato il Master in giustizia tributaria italiana ed europea presso l'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Caserta. A margine della presentazione abbiamo ascoltato il coordinatore del corso, il dottor Pasquale Menditto. Ma qual è la novità professore? Le novità sono parecchie. Di fatto noi ci ritroviamo la riforma del condensioso tributario che è da definirsi una rivoluzione. Questo Master ha l'obiettivo di preparare i giovani ad una professione ancora più difficile, di prepararli eventualmente anche al nuovo concorso che si avrà per il giudice ordinario, il giudice professionale. Quindi questa rivoluzione importa la conoscenza non soltanto di quelle che sono le tematiche tributarie ma anche le tematiche processualistiche che per i dottori commercialisti sono una materia un poco più difficile. Ecco perché l'ingresso dei relatori che sono già sul campo in materia di giudici ordinari è necessario per dare la possibilità di guardare i fatti non soltanto dal punto di vista diputario ma anche dal punto di vista processualistico in senso più generale. Dal punto di vista tecnico questo corso è stato programmato in modo più allargato. ci saranno parecchie lezioni nell'area doganale, parecchi interventi nell'area penalistica anche per creare delle future professionalità di specializzanti in queste due branche che sono poco curate oggi dalla ordinarietà della professione.